sicur' non sta contento con nos porta dentro e sala aqui con un coche qui per sobra ora nostra papi di direccia aparatura che sei na ei da un processo come ta chiede tam e ta hobbi importante per nos pro explica quanto è la toma e con è apparato na aqui di com' sta importante per nostra direccia nanti ora e ta importante pa dun e informasio in a comunidade posso ten e pensamento cota cada dia ten costa cambia aqui denanto e sei no te e caso imita querikta bom pa parlamento explica lo che cu mino porqueda simbisasi ma ne sempre au au e non sta senta aqui denanto non so datin reunionan seman passa però si a creia e impression tambe co e reunionan co a ser cancelata pa motivo quando a forma coro anto e sei ta torno da quadra pa motivo co a oi nostri mira e risultado e ora in a tatu mais aqui da pa motivo co e e apertura na mistura e direnta e quadra mi polubi da si co gestione vedi aprile ultimo e partido come ta forma parte dice aqui partido nacional di pueblo acumpli setenta e sei saia desa mi felicitazione e veiculo co adunami oportunidade pa por representei imita espera di optimo forma mi lo hacía mio posible pero ayer tambe tabu da dia di mamatera des mother earth day co ta pone énfasis anto mi te espera co pamieta di e atendimento di presupposto aki mi lo hacía tambe mi lo hacía tambe mucho mas con los po a kiko mas sostenible no sta asi pa e porta mucho mas duradero pa so lo que conosas y den ecuadro aki ta 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 cuadra co e realidad den ecuadro den ecuadro aki nos tinkubisa si co presupuesto vinte e vinte e cinco ta a tende ehm nos haciendo aqui presupposto di parlamento vinte e vinte e cinco den comisión central des basicamente nos turco das sinta aqui de nos ha com e il presupposto che sta per noi. Passi il 21 di marzo del 2025, l'ultima è stata una elezione. Dice, mi ha detto sempre, may the odds be forever in everybody's favor, con i nostri rivalisti, è un milagro, è fatto con i nostri sirvi, a che noi abbiamo, abbiamo un asilo buono, lo più migliore che è possibile. Quindi, mi sono contento con i elezioni del Parlamento, con i amici, che ci sono qui, a trezzi, cambiamenti e differenziazioni. E per questo, mi ha detto, che cosa è costante con i ultimi 4 anni qui, il presupposto del Parlamento non si può mirare differenziazioni. O che non si può mirare, per esempio, un comunicazione, ma è vero che passa, per questo è anche, dove è cambiare, non si è vero, con i 4 anni qui, e che non si lo miro. Quindi, mi ha detto, che cosa è costante con i forali, per scritto, per la comunità, che cosa è cambiare, non è costante, Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... 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 un parlamentario ha una comunità qui grazie madame